Ciao a tutti, bentornati o benvenuti sul mio canale. Io sono Arianna e in questo canale parlo di Instagram, social media e digital marketing. Lo so, questo titolo ha sicuramente acchiappato la tua attenzione, è abbastanza clickbait, ma se ho scelto di parlare di questo argomento, che è abbastanza anche spinoso, perché parliamoci chiaro, il denaro è tipo un tabù, almeno in Italia, ma ho deciso di condividere con voi questo, non perché voglio tirarmela, non perché voglio vendere il sogno di qualcuno che ce l'ha fatta e rendervi in qualche modo invidiosi, ma perché voglio condividere con voi questa grandissima opportunità, che penso ci sia ed è disponibile per tutti, di crearsi un lavoro di questo tipo, che ti permetta di viaggiare, guadagnare, stare bene e soprattutto lavorare e vivere della tua passione. Quindi, se condivido questi numeri con voi, non è, come vi dicevo, per rendervi invidiosi, ma perché credo che sia una grandissima opportunità, non solo per me, ma anche per voi e oggi vi voglio raccontare come ci sono riuscita, come sono arrivata ad avere questi guadagni e soprattutto come anche tu puoi fare lo stesso. Partiamo con il chiarire una domanda che spesso mi viene fatta e alla quale in realtà non ho mai trovato una vera e propria risposta, ma ora ve la voglio dare. Che cosa faccio io nella vita per guadagnare queste cifre? Perché so che sicuramente alcuni di voi se lo staranno chiedendo. Io non sono una content creator, non sono un influencer, come magari si può evincere dal mio account Instagram. Io sono e mi definisco una course creator, ovvero tutto il mio guadagno, il 95% di quello che guadagno, deriva dalla vendita di corsi digitali che ho creato io stessa e che ogni giorno mi occupo di promuovere sui vari canali di comunicazione che ho, come ad esempio anche questo canale YouTube. Io ho creato infatti nel 2020 un'academy che si chiama Instagram Peace Academy, dove insegno alle persone come creare, crescere e monetizzare con successo la loro pagina Instagram step by step. Nel tempo siamo riusciti a far ottenere dei risultati incredibili ad alcuni nostri clienti che non solo sono riusciti a raggiungere i primi 10, 20, mila, 300, anche 100 mila follower, ma soprattutto sono riusciti a monetizzare la loro passione con successo. Ovviamente tutto questo ha generato poi un gran passaparola e ora il corso sta crescendo, si sta espandendo sempre di più. Proprio per questo motivo oggi ti voglio raccontare quello che ho fatto per creare un corso digitale di successo che riesce a generare queste cifre tutti i mesi. Primo step fondamentale è stato quello di dare una trasformazione. Questo può sembrare magari una cosa banale, però in realtà la cosa più importante da fare quando vogliamo creare un corso digitale di successo è riuscire a dare una trasformazione alle persone che si rivolgono a noi. Tutte le persone comprano un prodotto per un motivo, può essere un bisogno da soddisfare, può essere una trasformazione da ottenere o comunque qualcosa che li riesca ad avvicinare alla loro felicità. In questo caso noi quindi dobbiamo riuscire a creare un prodotto che riesca a portare le persone da un punto A, un punto di partenza dove si trovano adesso, a un punto B. Per farvi capire in soldoni, quello che faccio io è portare le persone che non sanno come si usa la piattaforma Instagram ma magari vogliono conoscerla perché gli piace, perché ne hanno bisogno per motivi di lavoro, ad avere un profilo capace di creare una community solida, disposta a pagare il content creator e quindi monetizzare il proprio account Instagram. Quindi come vedete abbiamo un punto di partenza, abbiamo un punto di arrivo. Tutte le lezioni che sono all'interno dell'Academy hanno il fine di far raggiungere questo obiettivo alle persone. Tutte le persone che ovviamente raggiungono questo obiettivo, perché le persone non vogliono informazione, vogliono un cambiamento come vi stavo dicendo, quindi mano a mano che le persone raggiungeranno questo obiettivo ovviamente si spargerà la voce, cosa che è successa, e noi riusciremo a far crescere sempre di più questo nostro corso digitale. Il secondo step fondamentale poi è stato quello di automatizzare i processi, ovvero io non, come vi dicevo, come vi ho anche spiegato in un altro video che vi lascio qui, io non tutti i giorni non mi metto a promuovere il mio prodotto, tutti i giorni non vado a mandare la checkout page a quelli che me la richiedono. È un processo continuo e completamente automatizzato. Le persone vedono una mia sponsorizzata, vedono il mio post su Instagram, vedono il mio account, in qualche modo trovano l'opt-in page dove potersi registrare e accedere al mio webinar di presentazione del corso, si iscrivono, lo guardano, a fine webinar gli viene proposta la vendita del mio corso e se interessati si iscriveranno subito, altrimenti partono una serie di email in maniera completamente automatica che promuovono, continuano a promuovere il corso, fino a che uno non si iscrive. Chiaro che se dopo 8 giorni uno non si è iscritto, noi non continuiamo a mandargli l'email, ma semplicemente finisci in una lista dove comunque riceverai newsletter, promozioni, eccetera. Quindi come vedete è tutto un processo automatico. Per creare questo processo automatico io sostanzialmente utilizzo ActiveCampaign, che è il provider per raccogliere le email delle persone che scelgono di iscriversi al webinar, Kajabi, che è la piattaforma che utilizzo per la creazione del mio corso digitale, e ad oggi WordPress che mi serve per costruire tutte le landing page che vedete, quindi l'opt-in page del webinar, la sales page di Instagram Pace Academy, il mio sito, quindi tutto quello che ho trovato online sotto il mio nome, tutti i siti che sono disponibili sono fatti con WordPress. Il terzo step fondamentale poi che mi ha permesso di guadagnare, che mi permette di guadagnare queste cifre ogni mese, è quello di promuovere comunque continuamente il mio corso e il mio webinar attraverso i miei canali social. Chi mi segue anche su Instagram lo sa, io almeno una volta a settimana propongo, spingo le persone a iscriversi al mio webinar gratuito, quindi faccio una sorta di promozione. Sotto ogni mio post io inserisco sempre un pezzettino dove invito le persone a iscriversi al webinar, e durante appunto i miei video YouTube io invito le persone a iscriversi al mio webinar, quindi tutto il traffico dei miei vari canali di comunicazione che ho, lo dirigo verso l'iscrizione al mio webinar gratuito. Quindi permettimi un attimo di fare un piccolo disclaimer durante questo video e appunto invitarti, se ancora non l'hai fatto, a iscriverti al mio webinar gratuito l'età dell'ora di Instagram. Trovi il link qui sotto in descrizione, quindi una volta terminato questo video, mi raccomando corri a vederlo perché è un'ora di pura formazione dove ti insegno step by step come creare un profilo Instagram di successo partendo da zero e come crescere e monetizzare la tua passione con successo. Quindi, ripeto, se ancora non l'hai fatto, ti invito a iscriverti al link che trovi qui sotto. Il quarto step fondamentale che mi ha permesso di guadagnare queste cifre ogni mese, che mi sta permettendo di guadagnare queste cifre ogni mese, è quello di fare dell'advertising. Magari non tutti hanno la possibilità di fare advertising fin dal giorno zero, anche se veramente possiamo spendere piccole cifre e avere già un ritorno fin da subito, però è una cosa che nel lungo periodo vi consiglio di aggiungere alla vostra strategia. Questo perché vi consentirà di non solo attrarre le persone in organico che arrivano magari dal vostro account Instagram, dal vostro profilo YouTube, TikTok, eccetera, ma vi permette di attirare ancora più persone in target, perché il bello di Facebook advertising o YouTube advertising è che noi possiamo selezionare gli interessi del nostro pubblico, quindi possiamo andare a colpire determinate persone che hanno determinati interessi e che sono molto vicini a quella che è la nostra attività, quindi a quello che è il prodotto che andiamo a vendere. Per cui un'altra cosa che mi consente ovviamente di aumentare il mio fatturato, di raggiungere queste cifre ogni mese, è spendere, investire in advertising, che ripeto è una cosa che nel lungo periodo vi consiglio assolutamente di fare. Il quinto step che mi ha permesso di guadagnare queste cifre ogni mese è quello di essere costante. Essere costante non significa solo essere sulle varie piattaforme social, quindi fare un video YouTube ogni settimana, parlare su Instagram ogni giorno, eccetera, eccetera, eccetera. Essere costante significa anche una volta che ho creato il mio corso digitale, investire tempo per migliorarlo, per riguardarlo, per implementare alcune cose. Vi faccio un esempio concreto. Io quando ho iniziato nel 2020, il mio corso era molto embrionale, cioè c'erano poche lezioni, non erano neanche registrati in ottima qualità e cosa ho fatto? Ho iniziato a vendere quello, perché comunque non dobbiamo aspettare di avere tutto perfetto, l'importante è iniziare. Sono arrivate le prime vendite e io cosa ho fatto? Ho riniziato a rielaborare il corso, perché mi sono arrivati feedback da persone che avevano acquistato il corso, quindi dalle loro recensioni io ho detto ok, posso migliorare questo, 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 vado a migliorare queste cose. Poi mi ero resa conto che Instagram era cambiato, quindi andavano migliorate, aggiunte delle lezioni. Poi mi sono accorta che potevo avere più qualità nei miei contenuti anche per rendere più piacevole l'esperienza dell'utente quando entrava nel mio corso e quindi sono andata a migliorare tutto, anche la parte grafica, eccetera. Quindi ovviamente il corso da come è partito si è evoluto un bel po'. Cioè è proprio cambiato completamente nei colori, nella grafica, nell'aspetto, nella qualità, nel numero di video lezioni, nel prezzo. Per cui non fate un corso e lo lasciate abbandonato a se stesso perché non vi porterà mai a generare determinate cifre, ma mettete il vostro impegno nel crescerlo, nel curarlo, nel migliorarlo ogni singolo giorno e siate costanti nel farlo. Credetemi che da oggi a due anni la vostra vita potrebbe cambiare completamente. Potreste iniziare anche voi a viaggiare, essere liberi di viaggiare guadagnando comunque, potreste veramente avere nuovi clienti ogni giorno, esattamente come sta succedendo a me in questo momento. Quindi avete una grandissima opportunità tra le mani ed è giusto sfruttarla. Bene, per questo video riguardo al mio lavoro, come sono riuscita a guadagnare determinate cifre, comunque stando online e portando la mia passione là fuori è tutto. Io spero che questo video ti sia piaciuto. Se hai apprezzato questo video, lasciami qui sotto un emoji nei commenti, così so che sei arrivato fino qui e anzi complimenti perché alla fine è venuto un video abbastanza lungo. Noi poi ci vediamo la prossima settimana con un nuovissimo video. Se ancora non l'hai fatto, mi raccomando iscriviti al canale per non perdere i prossimi contenuti. Ci vediamo alla prossima, ciao!